Durante quattro entrato, l'entrata è stata buscata un'arma di candela, due detenioni con due armi automatici a confisca. Da che è dimostrato qua che non accorciò sicuramente la bassa armi di candela a tinta circola. Una ieri durante quattro è stata data a logra di confisca tre armi di candela, di quali due sto automatico. C'è l'1.12. di novembre, devono arrempare il personale di crisi di crimine organizzato, congiuntamente con il RST e il team di arresto è stata un'entrata judicial nella quattro adresa. Entrata nel judicial è stata un'entrata di un quadro di violazione di lei di arma di candela e opio. Durante la investigazione, in un caso con la piedra, la polizia è stata confisca un'arma di candela con bala o un saco con droga. In un caso, detenere un uomo sospettoso C.I.G.I. nasce nel corso di 34 anni di edad. In un caso, di Hunderberg, la polizia è stata confisca due armi di candela con bala e due carri di fuhrer. A detenere un uomo sospettoso N.A.L.P. nasce nel corso di 34 anni di edad. In un caso, di Santa Rosa, la polizia è stata confisca un telefono cellulare con di importanza per la investigazione. Dama e polizia è stata investigazione di un caso da Rio Salastrat. Apresenta ambos sospettoso delante un fiscal auxiliar con orenano encarcelamento, pendiente di mass' investigazione. Dama maltratata in orenano di Mardugà. Mestri ha amambulanza per un dama in azuela con una dama maltratata in orenano di Mardugà. Polizia servei delante un estabilicimento. Riva Rosa Valtuera in orenano di Mardugà per un caso di maltrato. Nel sito, la polizia è stata trovata con una dama in azuela delante del estabilicimento che aveva da fuori il suo conocimento. Abbiamo comprender che aveva da ten uso di alcol e, in un momento, costa di salire fuori di Mardugà e la dama è stata maltratata. Abbiamo di assistenza di ambulanza mentre la polizia è stata encargata con l'investigazione. Un uomo urlanzano che aveva snorca in la playa Xeremia, un uomo urlanzano europeo aveva snorca in la Xeremia. Nel momento che aveva da regressando, aveva un problema in la mano con la conseguenza che aveva gioca. C'è l'una di ora di a tarni, la centrale di polizia riceveva notificazione di un caso di uccanamento che aveva da tenuto la playa Xeremia. Un'unità di bárbaro che aveva nel sito, aveva noto di un persona mascolino di Riva Beach fuori il suo conocimento. Fuori investigazioni a salire nella clara che aveva da tenuto snorca in la playa in questione con un uomo urlanzano o famiglia. E, in un momento, ora che aveva da tenuto canto, aveva riparato che aveva da quede attra. Un cittadano, quando aveva da quede vittima, aveva da confrontare il problema, papai canto, abullo la acqua e treze vittima canto. L'ambulanza presenta nel sito, adorata la reanimare la vittima, però senza il risultato. Doctore di polizia che aveva nel sito, aveva da morto di Humbert Johannes Jacobus van der Berg, nascendo in Holanda, 12 di ottobre di 1951. E, in un'ordine, il fiscale del Ministero Público ha confiscato il corpo senza vita di vittima per un'investigazione. Paz, non so, resta una. Nelus e tráfico, n'adezza a van, falte di attenzione tra causa di accidenti entre treze veicoli. In un'ora di nocce, doveva da servizio, un agente policial fuma, causa un accidente, e va a vai fuori dal sito. Però, mas, despues, vince l'enaclà, con un poble agente policial, a que vai, deve guardar la sua cabeça contra di Vigil, e tambe dal suo pecho contra di Asturwil. Tava d'arriba a Helmin Wills Boulevard, na entrada di desa van, un veicolo lo mesera dal trasi, un auto, una sotturna vai dal contra di Assun, doveva da suddilante. Tenga ciò che ha qui un criatura a menor di edad, a sofrer leggiung, e abbia assistenza di ambulanze, maniera di accedere l'atà e polizco a causa di accidenti a vai poli di un veicolo particolare. Scooter da corre dal trasi e veng. Ambos persone che tava d'arriba scooter a sofrer leggiung, despues di accorre vai dal trasi e veng, che tava d'accorriendo a un'altura di Berg Altena. Un dama che tava manejando un scooter, non ha tomano tanto na tempo, con un taxi, che tava d'accorriendo suddilante, con un break. Quelle conseguenze quella vai dal trasi e veicolo. E se capone con tanto il dama come un uomo che tava da sintetà su trasi a vai suela. Ambos sofrer leggiung, per quale la pide assistenza di ambulanze. Il personal di ambulanze assamini è perito, non con due vittima. Ha sofrì, ma al final explica, non con un po' d'un dottore di casa. Forensi si sono qua che deve encargar con il accidente. Il break di turbos ha ocasionato un accidente. Il hombre che guia e il turista non hanno il convoi messera a cai, è sofrer leggiungo nel momento che il convoi messera dal conto di un auto. Il problema è accorzato da forma per la calla di Arruba Strati e Ferdinand Strati, che sorgere un accidente entro di un convoi per trasportare il turista in un auto di famiglia. Cosa del accidente ha dovuto avere il convoi messera con il break, e prepara net nel uso di tráfico, però devine un fallo tecnico e brecca falla po' di un convoy assicurato dal conto di un auto. Devine il choque un hombre che guia per la parada del convoy e passi nella guia e turista non durante il tour messera a cai e a sofrer leggiungo. E la warra transportare con ambulanze pa' Paule.